Mette in 60 secondi. Come siamo messi al podere ad acqua? Meglio dell'anno scorso solo per un motivo. Ve lo racconterò, ho fatto dei lavori un po' particolari al pozzo che c'era, quindi siamo un attimino più profondi, quindi abbiamo un pochino più di capacità al podere. Grazie a Dio ho un accumulo di 20.000 litri d'acqua stoccati. Ne entrano circa ogni giorno 3.000 di litri, ne stiamo facendo andare via 4.000 al giorno, chiudendo tutti i rubinetti e mettendoli al minimo. Quindi vuol dire che tra qualche giorno saremo con un serio problema perché siamo in deficit di 1.000 litri al giorno e me ne mancano ancora 15.000, quindi vuol dire 15 giorni.